Il Movimento 5 Stelle regionale chiede alla Regione l'UMI per quanto riguarda l'aeroporto Federico Fellini di Rimini al centro i dati sull'occupazione. Gli scintillanti dati sull'occupazione snocciolati qualche giorno fa dai vertici di Arrimino meriterebbero di essere spiegati meglio per capire di cosa realmente si sta parlando. Da quel che ci risulta, dice il consigliere regionale Raffaella Sensoli, nella quota di 81 dipendenti annunciati sarebbero compresi anche diversi addetti che lavorano nei negozi dell'area interna dell'aeroporto. Il capogruppo regionale Movimento 5 Stelle torna ad occuparsi l'aeroporto Fellini di Rimini all'interno di un'interrogazione che è stata presentata alla Giunta per chiedere chiarezza sui dati occupazionali forniti dalla società che gestisce lo scavo. Nel recente comunicato disponibile nel sito della società che gestisce l'aeroporto di Rimini dice si parla di una squadra costituita da 134 membri, dei quali 81 con contratto di tipo subordinato. Sorvalando sul fatto che fra gli esiti occupazionali prodotti a Arrimino ci sono anche gli appartenenti agli organi statutari? Sarebbe necessario capire quanti dei contrari di tipo subordinato siano tempo pieno e se nei numeri forniti da Arrimino sia compreso anche il personale dei negozi interni che nel 2014 davano lavoro ad oltre 25 persone, considerato che ci risulta che tra gli 81 dipendenti indicati ci siano anche questi addetti. Nella sua interrogazione la capogruppa regionale Movimento 5 Stelle chiede anche alla regione di esprimersi i suoi dati che riguardano il traffico aereo e che dice di certo non entusiasmanti. Considerato che nel prezzi dice che la costruzione del sistema aeroportuale regionale deve essere posta all'interno di un attento processo di verifica e valutazione a partire dal confronto sui piani industriali e aziendali sviluppati negli ultimi anni dalle società di gestione e che la possibilità di conferma del sostegno regionale dovrà necessariamente passare attraverso una puntuale verifica della sostenibilità economica di quella ambientale e del livello di integrazione con gli altri sistemi di trasporto sarebbe interessante, conclude Sensoli, sapere come la regione abbia intenzione di valutare la situazione del Fellini.